E beh ragazzi bentornati in questo nuovissimo video di Kingdoms Wars Oggi siamo in questo nuovo gioco e quindi penso che porterò avanti questa serie della serie di Dragon Ball Legends Penso che queste saranno le uniche serie che porterò avanti Qui c'è un po' come fare, io già avevo anche il tablet, però sono un livello troppo avanzato Quindi mi sembrava brutto a farlo al livello 56 e al 64 finisce Quindi il combattimento personalmente non è possibile mantenere la protezione di Warat E poi c'era una pena che mi racconto abbastanza i shib Ok Quindi vabbè, nonchiamo E di qui viene carico, sta dando un minuto peracino E poi le frecce vengono carico, sta dando un minuto peracino E poi le frecce vengono carico, sta dando un minuto peracino Adesso non vengono se va liberare, perché il caizzo lo svincerà E' un minuto peracino E' un minuto peracino E' un minuto peracino Mi hanno pure fatto male a la terra, quindi GG E' un minuto peracino contemporaneamente tristinato Ok, vittorino Ok, vittorino Ok, vittorino Ok, vittorino No, no, non ti domandare e sblocchiamo qualcosa qualcosa io rivedrei tipo a livello 2 poi dipenderà a che livello arrivare io mi devo mettere la scala tutte vabbè vittoriano 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 e qui raga arriverà un uomo scudo e spada un uomo scudo perché lo scudo è una spada eccolo eccolo vittoriano 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 eh onasera vittoriano vittoriano L estoy vittoriano ed ètatoriano il dispositivo Spera biannettamente dentro anche loro hanno un bel po' di uovi eh Però bonestamente sono abbastanza forte da incere Quanto tre pipe Ok questa l'abbiamo fatta Via Allora un, due, tre La gemma la trovo da te Cinquecento Beh, beh, beh Meglio cinquecento che sei Però non ho meglio dieci gemme Comunque andiamo avanti Se prendevo sei di oro veramente mi arrabbiavo Ok andiamo a fare un nuovo personaggio che sarà l'uomo Lancia Allora vedete che quando danno mi vogliono fare Vediamo Vediamo Ma E' vero E' vero E' vero E' vero E' via E' vero 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 Liные mi potenzio e poi la guerra di malva ok vediamo un po con attacca lì sono orgoglioso forse con dei blasti però togli i 27 che non è pronto ok 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 ma sono sano vabbè già abbiamo compiato quella cioè abbiamo già distruttato l'ottima eccoci un 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 due ma che non ho sbagliato vabbè 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 aspettate un due tre incomincio la gemma no un due tre la gemma me la fai trova rete raga andava questa comunque alla fine quindi quella aprivo ok perfetto battaglia ok andiamo andiamo a vincere forse raga non arriveremo a dieci eh non lo so ok ragazzi ok ragazzi abbiamo già vinto al tavolo perché l'ho fatto eh ragazzi ma io come lo tolgo da là oh mamma mia ce l'ho fatta oh mio dio ha spiegato un tornado non ci credo l'ora è utilissimo vabbè 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 penso è penso in acqua no oh no il 30 40 e sarà che non siamo in 4 5 però non arriverà in tempo perché la il testo sicuramente guarda la mano il quinto i due due bocchi due bocchi il quinto quindi ok vabbè dai altri due sfide allora saltiamo questo e poi mi faccio vedere la prossima ah no non l'ho saltata piccolo errore tattico ok raga vinta pure questa adesso andiamo di nuovo ti pareva stavolta starò più attento io ti sposto qua un due tre la gemma anzi no cambiamo frase un due tre incomincio da te la gemma da chi la troverò dal mio mago che la gemma troverò oh mio dio raga l'abbiamo trovata sembra che chissà cosa ho fatto invece ho trovato dieci gemme però sono tante dieci vuol dire tante buah buah andiamo a fare l'ultima battaglia di vabbè raga il mio spazaggino qua uccide un goblin l'ultima un colpo grandioso voglio dire voglio dire ok vabbè adesso spogliamo lo spino sul pavolo sciacquatico non lo spavano così è proprio valente non non lo spavano vabbè e vabbè pure il bosco il mio è il mio fare il una 30 eh, non dobbiamo attuare oh 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 e a ballare eeeh, ballo! ci siamo avanti andiamo a vincere vedete, va durato 29 minuti ok ragazzi, abbiamo vinto pure questa voi che dite, è un personaggio delle gemme o dell'oro? io dico che è delle gemme non me lo ricordo sinceramente, vediamo e infatti lo sapevo non ero più che certo dunque ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo prossimissimo video vi ringrazio tantissimo alla visione, ciao! ciao ho combinato un casino con attivare e disattivare lo stop ciao ciao